ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco master hide disinfettante pietra santa farma spa ultimo aggiornamento 30 agosto 2022 cosa master hide disinfettante confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali altre forme di interazione assumere master hide disinfettante durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è master hide disinfettante master hide disinfettante è un farmaco a base del principio attivo clorexidina di gluconato soluzione appartenente alla categoria degli antisettici e nello specifico biguanidiedomidine è commercializzato in italia dall'azienda pietra santa farma spa master hide disinfettante può essere prescritto con ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco confezioni master hide disinfettante soluzione cutanea 1 flacone 50 ml 1g barra 100 ml master hide disinfettante west soluzione 250 ml informazioni commerciali sulla prescrizione titolare pietra santa farma spa ricetta otc medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco classe c principio attivo clorexidina di gluconato soluzione gruppo terapeutico antisettici forma farmaceutica soluzione indicazioni pulizia e disinfezione della cutelesa ferite superficiali ustioni di grado e piaghe da decubito con interessamento limitato all'epidermide posologia posologia applicare sulla parte interessata una quantità di soluzione adeguata all'estensione della lesione 2 3 volte al di non superare le dosi consigliate popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia di master hide disinfettante nei bambini non sono state ancora stabilite vedere paragrafo 44 controindicazioni per sensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego il prodotto è solo per uso esterno l'uso specie se prolungato dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione in tal caso interrompere il trattamento e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione evitare l'uso contemporaneo di altri antisettici e detergenti popolazione pediatrica sono stati effettuati studi di interazione solo negli adulti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere master hide disinfettante durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere master hide disinfettante durante la gravidanza e l'allattamento l'utilizzo esclusivamente topico cutaneo e lo scarsissimo assorbimento dermico non pregiudicano l'utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari master hide disinfettante non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari effetti indesiderati è possibile il verificarsi in qualche caso di intolleranza bruciore o irritazione peraltro priva di conseguenze che non richiede modifica del trattamento nei confronti della clorexidina è stato riportato qualche vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio alle normali condizioni d'uso non sono noti sintomi da sovradosaggio la clorexidina è scarsamente assorbita dal tratto gastrointestinale dalla pelle proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica antisettici e disinfettanti biguanidi codice atc di 0 8 a c 0 2 meccanismo d'azione la clorexidina è una biguanide dotata di spiccata attività antisettica utilizzata principalmente come di gluconato è efficace contro batteri proprietà farmacocinettiche assorbimento viene scarsamente assorbita dal tratto gastrointestinale il suo assorbimento è praticamente nullo per via cutanea dati preclinici di sicurezza la somministrazione orale di dosi da 2 g barra chilogrammi in ratti ha evidenziato effetti epatotossici e nefrotossici non letali elenco degli accipienti agrumi e senza acqua depurata farmaci equivalenti in farmaci equivalenti di master aid disinfettante a base di clorexidina di gluconato soluzione sono master aid disinfettante fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato